musica bello quello va bene per i bonsai questo l'invito catena troppo tirata eh adesso è troppo tirata no non va più devi smollarla devi smollarla esattamente ma perché farò un'ora anche a te ma è qualcosa va bene va bene va bene va bene poi quando per accendere è la nostra questa è la diavolina per accendere anche adesso non è più cubettini che può essere